buongiorno lunedì 24 luglio la rassegna stampa di tg plus della provincia di padova con il mattino agguato a coltellate un morto regolamento di conti tra albanesi in un palazzo la vittima 24 anni quattro feriti uno grave assassini in fuga ma braccati nella foto notizia vedete che in ogni caso si parla di questa situazione cioè c'è proprio la scientifica che sta lavorando una testimonia dice sangue ovunque mi hanno urlato sono venuti con i coltelli il quartiere si dice zona tranquilla di case popolari qui non è mai accaduto nulla però le cose stanno stanno cambiando probabilmente i comuni contano i danni e si parla ancora del maltempo un'azienda stop di tre mesi e poi altre cose che che vengono segnalate a sansago un violento schianto tra auto in centro quattro persone all'ospedale e l'estate dei concerti zed dice ora l'euganeo da 50.000 posti zed sapete che lui si allarga comunque in ogni caso un'occhiata la diamo al gazzettino anche qui meloni la svolta sui migranti il premio al vertice con il leader di africa e golfo necessari e ue italia ma soltanto quelli regolari serve un impegno comune più collaborazione l'immigrazione illegale di massa danneggia tutti il lunedì comunque sapete che le notizie sono un po più nazionali friuli il sindaco contro la moschea temo per l'ordine sociale questo è il gazzettino che però va anche dalle parti di monfalcone burchini vietati in spiaggia le proteste le polemiche ne abbiamo parlato anche noi la settimana la scorsa scoppia la lite spuntano i coltelli un morto e due feriti gravissimi questa è la pagina che dedica il pezzo che dedica a padova visto che ne stiamo parlando il gazzettino e a conegliano non c'entro con l'assassino di mia moglie la faccio finita questa più trevigiana diciamo come che poi vedremo comunque in ogni caso nell'altra parte patrizio la vita da recluso in casa e l'omicidio suicidio shock a verona spara al fratello e poi si toglie la vita insomma prime pagine abbastanza dure questa mattina il corriere della sera sapete che il corriere del veneto lunedì non esce diamo un'occhiata mondiale di nuoto staffetta d'argento per i magnifici 4 poi ne parleremo ancora comunque spagna governo difficile bene i popolari male l'ultra destra di vox i socialisti meglio del previsto la meloni il patto per fermare i trafficanti nella fotonotizia rodi panico turisti in fuga noi inseguiti dalle fiamme avete visto che cioè si parla molto di zacchi la festa per zacchi ora mi batterò per i diritti umani che zacchi insomma è tornato è stato liberato ed è a bologna il papa dice che gli anziani non sono scarti e poi sotto twitter che si cambia dice basta uccellino il logo sarà una x sicuramente più facile e andiamo a dare un'occhiata anche alla pagina alla pagina di notizie plus mattarella fra 82 anni gli auguri di zaia vede nell'autonomia il rispetto della costituzione notizia che arriva da jesolo muore ragazzo di 26 anni in un incidente stradale e arriva da ischia il nuovo presidente turismo e cultura di confindustria veneto est domani oggi vediamo la pagina generale di notizie plus poi durante la giornata naturalmente si popoleranno anche le altre edizioni è tutto